Ricevo anche un'illustrazione da un artista danese che si è studiato i tarocchi di Dune, me li inserisce in anteprima nell'opera, quindi tutto è perfetto, e inizia a girare una voce e dici vabbè dai, ma sembra che facciano uno sciopero dei sceneggiatori, vabbè ma sì, chi se ne frega, e poi fanno lo sciopero, vabbè ma dai, tanto Dune esce, arriva a Venezia, no a Venezia il mio amico selezionatore mi dice guarda che non c'è, però uscirai in sala, vai tranquillo, è già pronto, è già impaginato, è già, e scopro mentre sono via, mentre sono in vacanza, piglio il cellulare così, guardo, ha rinviato di sei mesi. Chiedendo questa cosa, ma me la chiedo tante volte, sia per quello che riguarda quello che hai scritto tu, sia per questo che abbiamo appena sentito, non ti viene mai da chiederti se non stai a tutti i costi facendo tornare l'equazione? Guarda, a me... Sai quella classica, guarda che ho il risultato finale, il problema a scuola elementare che aveva il risultato finale, e il risultato veniva giusto, ma in realtà i passaggi in mezzo erano sbagliati, tu li avevi aggiustati. Tu e io l'abbiamo fatto tutti, è legittimo, ma vedere cose come questa sono proprio le quadrature del cerchio, secondo me, cioè finché l'idea è mia, io ho sempre trovato enormi punti di contatto, ad esempio appunto tra storie delle religioni, Dune e Alien, ho sempre visto che quelle tre cose si parlavano, sono sincero, io ne parlavo l'altra sera con un carissimo amico, io al tempo avevo una conoscenza cinematografica superficiale, dire poco, cioè io avevo un'idea proprio così, e ho detto, ma si assomigliano, poi vedo queste cose qua e dico, caspita, ma è la stessa persona? Cioè il regista dice, il mio uomo di fiducia l'hanno preso e l'hanno portato a fare Alien, e questo inizia un po' a tornarmi, poi ho letto qualche libro di Jodorowsky e ho visto che parla di storie delle religioni, dico, cavoli, ma va a vedere che il tentativo, cioè la tentazione di far quadrare l'equazione c'è sempre, io quando inizio a scrivere ho un sacco di cose che quadrare davvero, ma proprio un sacco, tu non sai quante bacchettate... E ti capita mai di smentire l'eco, di trovare che... Ma guarda, io ho deciso di fare una cosa, ma per metodo universitario, lo so, è una roba che... Io se non trovo delle prove solide, lascio perdere, io ti dico, ho fatto quel libro sui temi gnostici in tutto il cinema, si passava da Matrix a Twin Peaks, a Westward, lì dentro io ne avevo altri 4 o 5, che secondo me, ma continuo a dirlo adesso, pillola rossa o lo già nera, giusto per dargli un nome, lì dentro ne avevo altri 4 o 5 che quadravano alla perfezione, ma non ho trovato riferimenti al fatto che il regista si fosse studiato qualcosa di quello, l'ho lasciato fuori, guarda, uno l'ho fatto tagliare alla casa editrice, io poi era già in pagina, gli ho detto, leva, non sono tranquillo, toglilo. Cerco di non farla quadrare, cerco di trovare tracce. Però torno al mito, non potrebbero creare il mito, cioè il mito tendenzialmente può anche essere un'equazione sbagliata, cioè mi viene da dire questa cosa, che tu, è vero che se la vado a vedere bene l'equazione sbagliata, però ho creato talmente, che quadra lo stesso, che il mito è accettato da tutti, ecco. Guarda, secondo me è proprio così, nel senso che certi temi poi, a forza di girare, vedi proprio la carrellata che abbiamo visto adesso, iniziano a girare nell'immaginario e iniziano ad essere presi anche da autori che non sanno cosa ci sta dietro, ma, come dici tu, per sentito dire, cioè, c'è un film che secondo me abbiamo visto tutti e se non l'abbiamo visto tutti andiamo a casa e ce lo vediamo, ma The Truman Show, The Truman Show tocca tutti questi temi, però The Truman Show, francamente, secondo me, per le ricerche che ho fatto, il regista non ne capisce una di quest'anno. Parole forti. No, è un grandissimo esperto, ma non è uno storico delle religioni. Poi sono andato a vedere un po' dietro cosa ci sta, io ho sempre studiato l'influenza delle religioni su Philip Dick, quello che continuiamo a citare tutta la sera, l'autore di Blade Runner, questo scrittore qua, e scopro che The Truman Show è liberamente ispirato a un racconto di Philip Dick. Questo ha preso un condensato come fosse di un e l'ha adattato così per farsi la sua storia e si è portato dietro tutto il bagaglio. Cioè, voglio dire, è contagioso, ma io l'ho citato prima, perfino, lo sappiamo tutti e due, perché ce l'abbiamo in comune tutti e due, non facciamo finta, non nasconderti. Io sono qua. A tutti e due piace la musica metal. Io non penso che chi scrive canzoni metal sia un esperto di simbologia, però questi temi ricorrono in maniera talmente profonda e sono così diffusi che in qualche modo sono... Però sai meglio di me che qualcuno ha preso anche delle grosse cantonate. Certo. E comunque sono accettate queste grosse cantonate, perché o sei un appassionato, un curioso, uno che va a schiare un po' il fondo del barile, oppure va bene così. E allora ti viene fuori certa narrazione dei Blank Guardian di Tolkien che dice, no, attenti, guardate che Tolkien era cattolico estremamente religioso, non era un anticristo, ecco. Ma qua entra in gioco il mito. Cioè, Tolkien è diventato l'icona del fantasy, no? Tutti pensano a Tolkien come il fantastico. E' anche un certo tipo di fantastico nero, satanico, se vuoi. Sì, legato al lato scuro. Comunque ai mostri, al lato scuro, queste robe qua. I Blank Guardian, un gruppo metal, coglie questo mito, ma io sono convinto che il cantante, anzi è palese, non ha mai letto nulla di tutto questo, ma ha intercettato il mito e l'ha portato sul palco. Sbagliato. Oddio. Cosa vuol dire sbagliato? Ecco, appunto, su quello sono d'accordo, perché poi se gli vai dietro ti porta avanti, ti porta nella sua storia e la sua storia è coerente. Sì, ma anche perché, come abbiamo detto prima, le opere di un non è di Herbert, ormai non è più di Herbert da un bel po', come diceva Don Quixote. Cioè, le opere poi iniziano a appartenere a tutti, vengono riraccontate e rivissute. In questo momento chi va al cinema vede Di Villeneuve, vede Paul Atreides e vede Timothée. Non vede... Però ecco, tu credi che noi oggi quando andiamo al cinema e vediamo queste cose ci facciamo ancora delle domande o ci accontentiamo di guardare Timothée? Posso essere polemico fino alla fine? Devo dire quello che vuoi. Secondo me questo è il grande male del cinema, perché dietro un'opera ci sono persone che studiano anni. Sempre in quel progetto di cui tanto non si può parlare, no? In quella roba lì abbiamo intervistato... Io ho paura che prima o poi si alza qualcuno dal pubblico mi dà un coppino, lo prendo tutto perché non lo vedo arrivare. Ma sempre in questa cosa qua abbiamo intervistato un regista e siamo andati a vedere ma questa persona e quelli che stanno dietro a lui studiano per anni prima di arrivare a mettere su... Mi viene da dire pellicola, scusa, sono proprio vecchio. A mettere su schermo qualche cosina. Perché in qualche modo c'è un lavoro di ricerca. Io trovo che... Ma mi metto per primo, non è che sto dicendo io capisco gli altri no perché non è proprio nel mio. Trovo che la maggior parte delle persone che fruiscono del cinema ne fruiscono in maniera molto inconsapevole. Ma è così. Ma guarda, ma non ce l'ho... Anche superficiale, mi perdoni se lo dico? No, dillo, dillo. Ma non ce l'ho solo con quelli che mangiano i popcorn a Cinellandia. Io ce l'ho anche... Ma tante volte anch'io sono superficiale per certi versi. Ma solo la mia obiezione dico io non guarderò di uno mi rende un superficiale, ecco. Ma sai qual è il peggio? Io ho la sfortuna che è proprio una disgrazia di scrivere anche un pochino di critica cinematografica e di confrontarmi con gente che scrive di critica cinematografica. E presumo sempre che chi faccia queste cose almeno quelli un po' di analisi la facciano. Poi vado a scavare ma proprio su Dune. Ho parlato a un ragazzo che scrive su una rivista molto importante che non citeremo e a un certo punto mi dice che trova anomalo la presenza della visione del futuro che è soltanto il tema principale del libro ed è il motivo su cui si fonda tutta la saga di Dune. Ora mi chiedo ma questa persona che è pure diventata occupa adesso pure una posizione di spicco in un festival importante che sta in Piemonte mi chiedo non ha qualcuno dietro che gli dà il coppino che aspettavo io prima? Gli dà un colpo con una mazza da baseball? Cioè questa è la domanda di fondo. Allora io ti farei nuovo leggere qualcosa perché mi piace sentirti mi piace quello che viene fuori è una bella sensazione mi dà delle belle vibrazioni e poi torniamo a cianciare ancora un po' e se non vi stiamo annoiando andiamo ancora avanti un po'. Cioè più che altro se io vi sto annoiando Paolo quello che dice non è annoioso. E guarda parliamo di quello che non è il critico no dico per battuta l'uomo perfetto. Vai. Polatreides oltre a incarnare il messia islamico noto come Mahdi è anche e soprattutto il Quisatz Adherak il mitico messia genetico a lungo atteso dalla sorellanza Bene Gesserit destinato a cambiare le sorti dell'umanità intera. Alla lettera il titolo Quisatz Adherak deriva da un'espressione ebraica che Visatz Adhere ossia il salto nel cammino la scorciatoia lo conferma nel libro la stessa Lady Jessica che fornisce una traduzione pressoché analoga di questa espressione Cynes aveva detto la via più breve L'interpretazione viene ribadita in maniera ancora più esplicita nelle appendici del romanzo Il ricorso a un'espressione ebraica è particolarmente significativa perché in quell'ambito culturale che l'idea di uomo perfetto ha le sue radici più profonde proprio nei primi capitoli della Genesi compare una serie di catastrofici incidenti di percorso e a seguito di queste cadute primordiali che l'uomo abbandona l'originaria condizione di entità perfetta fatta da Dio a immagine e somiglianza e si trasforma in una creatura fragile limitata e mortale la prima catastrofe è il peccato dell'Eden a seguito del quale Adamo ed Eva vengono cacciati dal giardino costretti a un'esistenza di lavoro e fatica e soprattutto privati della loro originaria immortalità successivamente per punire l'unione proibita tra gli angeli e le donne umane la lunghezza media della vita degli individui viene drasticamente accorciata e da numerose centinaia di anni vissuti da Matusalemme Enoch e altri patriarchi si passa a un massimo di 120 infine dopo il suo supervo tentativo di scalare i cieli con la torre di Babele all'uomo vengono anche significativamente ridotte le abilità cognitive privandolo della sua innata capacità di comprendere e interpretare le lingue più in generale l'intero immaginario ebraico è pervaso da un continuo succedersi di cadute e incidenti di percorso e dal progressivo accumularsi di fratture e imperfezioni secondo una lunga e fiorente tradizione mistica la caduta dell'uomo non sarebbe però del tutto irreversibile l'intero immaginario giudaico dall'epoca di Gesù alla tarda età medievale è permeato dal desiderio di risanare queste fratture primordiali e intraprendere una mistica via più breve per ricostruire l'uomo perfetto si tratta del medesimo percorso che in Dune viene intrapreso dalle Bene Gesserit che ambiscono a riportare l'essere umano al suo pieno potenziale originario risvegliando nei poteri latenti le Bene Gesserit però utilizzano l'eugenetica Urca quante cose me le hai devo cercare sì sì io sono contento perché vado via soddisfatto magari faccio anche una sparata alla fine però non adesso adesso voglio andare un po' a vambara anche su queste cadute che hai citato questo percorso di mi cado rialzo che secondo me è interessante da affrontare chiedendo però alla tua vicenda personale a questo libro se è stato cioè io immagino che non sia nato perché è partita una mega produzione che forse si faceva sia nato perché hai letto hai trovato hai scoperto hai detto voglio scriverlo è un percorso che è stato lineare o è un percorso che è stato di cadute che hai dovuto stiracchiarlo correre o rallentare per farlo arrivare anche in coincidenza poi di una visibilità maggiore non c'è mica da nascondersi dietro un dito è un percorso che ha tante di quelle cadute che penso che neanche quando via Boerino era sterrato c'è qualcosa quindi anche il libro di Paolo Riberi si aggiunge al poeta maledetto Dune sì sì ma serenamente io mi ricordo quando ho cliccato invio in quel momento lo odiavo ho detto vai 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 con Dio e non tornare più indietro poi sono ben felice proprio è un'opera di cui sono proprio orgoglioso mi piace proprio tanto quel che è venuto fuori ma nel momento in cui ho fatto invio in quel momento francamente ma la radice dove si guarda? parte a caso parte totalmente a caso perché i miei amici lo sanno io ero no ma io sono sempre stato appassionato e ancora riduttivo io sono sempre stato malato dei film di David Lynch ho voluto recuperarli uno per uno non sono andato a cercare ho saputo che c'era questa cosa degli anni 80 che parlava di fantascienza diretta da David Lynch con Sting nel cast ho detto ma questa va va visto lo guardo a me è piaciuto tantissimo pensavo fosse un capolavoro nell'immaginario vado a cercare e leggo che Lynch lo considera un abominio chiede di non parlarne l'ha disconosciuto in parte l'ha disconosciuto in parte e ha disconosciuto del tutto i due produttori ha messo i due fratelli De Laurentiis nel suo film successivo nei panni di due mafiosi che ricattano registi e sputano che tutto sommato ci sta che tutto sommato è una descrizione abbastanza calzante ecco secondo me si potrebbe allargare anche a tante altre case di produzione di oggi ma chiudendo questa cosa io mi sono appassionato ho iniziato a leggere il romanzo ho iniziato a trovare tantissime cose mie e ho capito che questo romanzo questo saggio andava fatto sono partito da solo volevo fare un libro che parlasse di Dune nel senso della storia dei religione fosse un libro forse che a te sarebbe piaciuto di più perché era molto più caldo più viscerale però non era Dune perché Dune in mezzo a tanta tecnica l'ho messo lì nel cassetto poi lo di un ho ritirato fuori e ci ho aggiunto altro doveva entrare in pillola rossa poi lo di un ho tolto poi a un certo punto ho deciso di farlo ho coinvolto Giancarlo Gent anche questo professore del Politecnico di Torino che ha aggiunto questa parte tecnica e nel frattempo sembrava che andasse bene questa storia del film perché era arrivato il 21 allora mi ricordo che sono partito per il Festival di Venezia dove l'ho visto in anteprima ho detto se va bene chiamo la casa editrice io sono io ritengo che il film uscito dal 2021 sia qualcosa di spettacolare ma io sono ero partito con quel proposito mi sono dimenticato di chiamare l'editore perché era troppo cioè sono rimasto abbaccinato da quel che ho visto poi al fine l'ho chiamato la casa editrice è stata entusiasta ma no aspetta di mezzo c'è una la mia storica casa editrice tutto sommato subito non l'ha visto così bene ha detto ma siamo sicuri ho cambiato editore abbiamo ha già avuto una vicenda editoriale dietro ecco ho cambiato casa editrice questi altri si innamorano contattano me Giancarlo ci dicono partite andate e quindi entra in gioco quello che hai detto tu abbiamo io avevo tutto avevo tutto avevo cassetti ho testimoni che lo sanno avevo cassetti colmi colmi di carta di idee ma proprio di idee scritte di roba pronta sono partito e ho iniziato a scrivere a fiume poi si è posta la questione della prefazione questo libro non ha la prefazione io ho avuto una grande opportunità perché tramite il mio amico Igor che ha una libreria a Torino che è una libreria storica la più antica d'Italia nell'ambito esoterico lui ha avuto contatti ha avuto modo di far venire a Torino Cristobal Jodorowsky il figlio del regista che abbiamo visto prima cavoli lui parla a Jodorowsky gli dice che io sto facendo a Jodorowsky figlio gli dice che sto facendo quest'opera vabbè quasi quasi ci faccio una prefazione però stiamo parlando ancora di gente sudamericana con una paroccia molto dice quando vengo a Torino ci prendiamo un caffè ne parliamo quindi avrei avuto modo di incontrare il figlio di Jodorowsky e farmi fare la prefazione da lui e qua c'è la maledizione di Dune che gira che alleggia a oltranza Cristobal è morto durante il viaggio per Torino cioè qua qua è veramente io adesso rido ma io avevo voluto spararmi cioè dico ma cavoli non è esattamente un personaggio che trovi tutti i giorni questo sapeva del progetto voleva parlarmene di fatto era un sì Igor mi ha detto guarda che sì te ha fa e niente quindi sì senza prefazione poi arrivo ho deciso la prefazione non si fa parto corriamo come dei disperati che non vuol dire che il libro è stato scritto di corsa vuol dire che ho rielaborato il materiale di notte usando tutte le mie energie tutto il mio tempo il libro è pronto Massimiliano si ammazza a fare l'illustrazione dice praticamente l'avrai fatta 60 volte cose incredibili cercando di evitare le cause cercando di evitare dei nostri amici che non citeremo l'ultima volta del libro scorso i nostri amici che non citeremo si attaccano a un'immagine che io avevo messo e per fortuna lui l'ha ridisegnata quindi amici che l'immagine era di True Detective questi invece di un quindi amici che non sono Disney e non sono Universal sono un'altra casa e questi qua quindi facciamo tutto per bene ricevo anche un'illustrazione da un artista danese che si è studiato i tarocchi di Dune e me li inserisce in anteprima nell'opera quindi tutto è perfetto e inizia a girare una voce e dici vabbè dai ma sembra che facciano uno sciopero dei sceneggiatori vabbè ma sì chi se ne frega e poi fanno uno sciopero vabbè ma dai tanto Dune esce arriva a Venezia no a Venezia un amico selezionatore mi dice guarda che non c'è però uscirà in sala vai tranquillo è già pronto è già impaginato è già e scopro mentre sono via mentre sono in vacanza piglio il cellulare così guardo ha rinviato di sei mesi chiamo l'editore ah ma noi vorremmo farlo uscire così no 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 lo facciamo uscire col film poi capiscono anche loro la cosa decidiamo di rinviarlo quindi prima ho avuto la galoppata e poi sono arrivato lì e avevo sei mesi quindi in questi sei mesi ho riletto pulito aggiunto tutta la revisione che non ho fatto prima l'ho fatta sotto steroidi dopo quindi aggiungevamo toglievamo Francesco magari vediamo poi ancora un filmato e poi vediamo se c'è ancora la giusta attenzione comunque c'è stata una grande attenzione io voglio fare i complimenti a tutti perché non è che stessimo parlando di calcio quindi grazie a tutti davvero però ti farei ancora leggere un pezzo poi guardiamo ancora lì e poi decidiamo tutti insieme se fare ancora due parole magari qualcuno ha qualcosa di più intelligente di quello che dico io da dire allora visto che abbiamo sempre parlato io stasera penso di aver detto dodici volte la parola Messia e l'hai detto tu qualche volta ma non abbiamo mai ben contestualizzata in Diun c'è sempre questa figura del Messia al centro ma è un Messia islamico non è un Messia cristiano anche l'Islam è un Messia e quindi provo a leggervi qualcosa il sovrano e profeta dei Fremen Paul Atreides è anche denominato Mahdi il guidato un titolo messianico tuttora ampiamente in uso nella religione islamica dalla parola araba Mahdi peraltro deriva anche Muad'Dib il nome che Paul Atreides assume al momento del suo ingresso ufficiale nei ranghi dei Fremen in tutte le sue versioni tuttavia il Mahdi è sempre protagonista del mito escatologico l'Apocalisse ossia il grande racconto della fine dei tempi e della grande battaglia tra il bene e il male la ricorrenza di questo titolo nella saga di Dune è tutt'altro che casuale se lo si osserva con attenzione l'intero atto finale di Dune è una vera e propria trasposizione in chiave fantascientifica della leggenda islamica del Mahdi secondo la sura 18 del Corano il mitico signore dei due corni Du Al-Karnain che per la maggior parte dei commentatori altri non sarebbe che Alessandro Magno avrebbe edificato in un lontano passato una gigantesca muraglia di ferro al nord del mondo per bloccare il passaggio tra due monti gemelli e difendere l'umanità civilizzata dalle selvagge orde del caos governate dai mitologici re Gog e Magog curiosamente numerose tradizioni musulmane collocano questa barriera nel Caucaso una terra di frontiera tra il Medio Oriente e l'Europa che come già si è sottolineato ha rappresentato una delle maggiori fonti di ispirazione per Dune anche dal punto di vista storico le analogie non si fermano qui secondo una tradizione medievale attestata anche in un volume ottomano risalente al 1582 il libro della felicità le selvagge tribù di Gog e Magog che dimorano al di là della muraglia proprio come in Dune erano solite cavalcare giganteschi serpenti allo stesso modo di come fanno i fremen di Dune con i vermi delle sabbie la simbologia di fondo è piuttosto chiara in entrambi i casi si tratta di creature abissali legate al sottosuolo e al concetto di caos e oscurità alla fine dei tempi il crollo della muraglia e l'arrivo delle tribù selvagge guidate da Gog e Magog a cavallo dei serpenti è soltanto uno dei presagi che preludono alla fide del mondo in seguito tra cataclismi e terremoti proprio come l'atomica che Paul lancia sul muro emergerà dal sottosuolo la grande bestia il Dabba e alle genti disperate si manifesterà un falso messia il Dajjal i parallelismi con l'atto finale di Dune sono molti espliciti e difficilmente imputabili al caso Paul veste espressamente i fanni del Madi un messia guerriero che raduna e riunisce l'esercito dei Fremen per guidarli verso la battaglia finale oltre il gigantesco muro scudo da qualche tempo la città è governata da un despota che tutti chiamano la bestia Rabban e che molto fa pensare alla bestia Dabba del mito islamico dell'apocalisse il piano del barone è utilizzare la bestia per opprimere il popolo di Arrakis così da indurlo ad acclamare l'altro suo nipote il subdolo e crudele feidrauta come salvatore e liberatore il parallelismo in questo caso è con il Dajjal l'anticristo islamico che verrà acclamato come un messia prima di essere smascherato e sconfitto in duello dal vero Madi ed è proprio così che si conclude il primo romanzo di Dune ho fatto un lavoro di taglia e cuci per evitare troppi spoiler ammetto che saltavo qua e là tanta roba allora facciamo vedere subito qualcosa di Lynch visto che ce l'hai nominato sovente sì sì decisamente secondo me cinema allo stato puro ma veramente allo stato puro ma al tempo stesso è volutamente incomprensibile cioè io mi chiedo veramente una persona che questi sono i primi quattro minuti del film ma poi dopo non spiega niente cioè hanno eruttato dodici nomi propri concetti cose cioè dà l'idea di come si può accostarsi a questa cosa come hanno fatto adesso Villeneuve spiegando per bene tutti i concetti e arrivando con personaggi cioè hanno citato delle cose che è stato nel libro 5 però mi è piaciuto perché è un cinema che oggi non si fa più è un cinema lento ed è un peccato per certi versi no no ma senza certi versi è un peccato pur essendo effettivamente un po' più lento ecco però c'è questa cosa secondo me interessante del fermarsi un attimo a riflettere sulle cose prima di adesso dobbiamo parlare in continuità non lasciare mai tempi morti spazi morti perché sembra che se no sia un disagio per tutti invece lì si prendevano i tempi per fissare un'immagine e guardarla bene chi ti piace non ti piace comunque avevi il tempo di guardarla oggi non hai il tempo di guardarla deve scorrere velocissima questo è un peccato ecco soprattutto se qualcuno ha qualcosa da dire questa è la patologia secondo me ma guarda sai cosa mi spaventa è una deriva cioè io ho sentito persone dirmi quello di oggi che è densissimo a Zimmer appunto che continuano a dire a fare delle cose spettacolari è però è lento ma infatti mi viene da dire ma guardati l'inch ti faccio vedere io cosa ho più lento quattro minuti per far entrare una lumaca che dice dodici parole di cui non capisci bene cosa il fascino del cinema sta nella lentezza sta nella costruzione lenta ma guarda è l'idea di questa serata qua no? fermarci e parlare e non correre cioè questa serata si poteva fare in streaming col cellulare al volo il linguaggio cinematografico sta evolvendo in una direzione che a me spiace perché sono nato nell'88 e parlo come un vecchio dei tempi della guerra però sta andando in una direzione eccessivamente veloce che sacrifica il contenuto alle immagini sì ma ma il punto è che le immagini parlano da sole il cinema è arte visiva io non voglio dire però ci sono immagini immagini che parlano da sole ecco un'immagine che parla da sole devi dargli anche il tempo di digerirla perché ti dica qualcosa ma comunque l'immagine deve essere studiata deve essere costruita cioè sì 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 sempre la cosa di cui non si può parlare quel libro che vorrei poi veramente magari rifare una cosa su questo esamina proprio quello cioè quel regista di cui ci occupiamo è un regista che fa cose molto veloci molto ritmiche ma al tempo stesso molto studiate molto costruite oggi c'è la tendenza a vomitare immagini così tanto per sì per stupire per stupire per meravigliare tant'è che ma guarda qua addormentare cioè stimolare solo l'occhio addormentare tutto il resto ecco tu guarda le battaglie finali di tutti i film che stiamo vedendo negli ultimi tre anni sono tutte uguali sono tremende sono tremende ma anche dopo un certo punto cosa ci metti ancora ma il punto è che secondo me ci può mettere molto ma resta in quella dinamica cosa fai come fai ad aggiungerci ancora certo quando hai riempito lo schermo lo schermo è grosso così hai messo dei ciccini che saltano fuori da te cioè il punto è costruire qualcosa di memorabile ma memorabile adesso io non voglio fare lo studioso Barboso ma memorabile è Achille contro Ettore sotto le mura di Troia ma sono due con la lancia e lo scudo poi anche lì Hollywood l'ha fatto con 140 persone effetti speciali e roba robuante ma l'essenzialità a volte ha un valore forte in queste cose anche perché l'epica passa dall'essenzialità guarda Paolo io ti ringrazio ringrazio tutti io spero che sia stata una serata interessante spero che vi abbia offerto degli stimoli delle provocazioni la voglia di andare a scavare nelle tante conoscenze che Paolo ha e che offre perché a me la cosa che piace anche molto è che lui è carico anche di autoeronia ecco quindi non è quello che fa il docente universitario distante ma è uno che sa scherzare si scherza però intanto ti dice delle cose veramente interessanti che andrebbero approfondite bisognerebbe fare avere più occasione o dare più visibilità ai tuoi lavori perché secondo me a tante menti che oggi vivono lì accontentandosi ci sarebbero i presupposti per dire e ripeto non cose straordinarie non stiamo parlando di fusione nucleare stiamo parlando della quotidianità come mai oggi viviamo in questa maniera piuttosto che quella là perché siamo passati attraverso tutte queste riflessioni che ci hai fatto vedere tu e che qualcuno ha cercato di suggerirci in chiavi magari più stimolanti vedi di una vedi tutta la narrativa fantascientifica fantasy e chi più ne ha più ne metta quindi grazie davvero grazie a tutti non andiamo alle canne greche perché poi sarebbe un peccato ma bravo Paolo grazie a voi per l'ospitalità io mi rendo conto che in una serata così poi uno tende a dire ma il libro ha più senso di così ed è più metodico di così l'idea qua era di buttare tanta carne al fuoco ma apposta per stupire per sconvolgere un po' poi se volete il libro io qualche copia l'ho portata posso anche dedicarla assolutamente io dico voglio dire una cosa perdonami se ti ho interrotto è vero avremmo potuta farla da remoto in la call conference che tacche bomba mano secondo me invece serve anche questa cosa dove si sente il respiro delle parole delle persone che parlano fa parte del gioco ecco di un ritorno di ritrovare qualcosa che forse è un po' smarrito un po' latente che invece è utile perché purtroppo è una mia impressione potete correggermi tutti se sbaglio se sto qua e c'è Paolo che parla lo ascolto e sento le sue parole le rielaboro se lo guardo attraverso un monitor qualcosa mi perdo perché a un certo punto c'è la distrazione di turno e c'è questa cosa poi adesso si io l'ho già fatto però vado a riprendermi l'ho fatto ma lo riprendo e lo rileggo alla luce delle cose che mi hai detto stasera rileggo tutto quanto probabilmente andrò a vedere di un ma perché devo trovare qualcosa la prossima volta è la sbagliata no però davvero mi piace anche questa cosa di far ricredere le persone dici no lo vado a vederlo perché è mainstream e poi dire va bene ma che gli altri vadano a vederlo perché è mainstream io vado a vederlo perché guarda quante provocazioni interessanti mi ha fornito Paolo e chi ti ha dato una mano perché poi hai detto tu è un libro a quattro mani ma hai detto anche tu ci sono tante altre persone che se non in questo libro in altre cose ti hanno aiutato sostenuto lì per cui grazie davvero grazie a tutti io spero che questo formale vi sia piaciuto era una serata impegnativa perché affronti temi non semplici ne faremo altri speriamo che la gente sia curiosa di tornare a vedere anche altre situazioni il tuo comunque diventerà un video o una serie di video perché come ho detto abbiamo fatto tre blocchi tre set quindi andatelo anche se vi interessa se vi è piaciuto andarlo a cercare sui canali di youtube su instagram su tutte queste cose perché una cosa è essere lucidi l'altra cosa è essere ostili certo esiste un mondo fatto di queste cose e non bisogna abiasimarle anzi offrono le belle opportunità secondo me bisogna avere le due cose viversi una serata così e poi magari andarsela a riprendere perché è stato espresso un concetto che per quanto lenti siamo noi è stato troppo veloce e allora magari letto nel libro è ancora più chiaro nient'altro da dire se non grazie Paolo grazie a Francesco che secondo me ha dato un'enfasi con la sua improvvisazione importante alle letture di Paolo e poi rimaniamo qua facciamo chiacchiere fate altre domande a Paolo ecco noi smettiamo solo di filmare ecco tutto qua grazie davvero e buona serata a tutti grazie di cuore in piedi Paolo Riberi grazie a tutti grazie a tutti Grazie.